ciao ragazzi benvenuti oggi noi non facciamo i ricchi giocaccoli esatto facciamo una cosa molto più importante cosa facciamo andiamo a portare del cibo per gli animali terremotati nelle zone terremotate di lazio e marche giusto ok perché noi facciamo parte dell'associazione amici di birillo e quindi andiamo a portare il cibo siamo arrivati nel punto di raccolta non del cibo ma delle persone siamo arrivati primi molto in anticipo adesso aspettiamo gli altri dell'associazione poi andiamo a fare la consegna e allora noi intanto che aspettiamo si gioca a pallone al parcheggio dell'autogrill ciao 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 Vabbè ho capito, apri apri fai vedere bene, un occhietto, volete l'occhiolino o faccio l'occhiolino? Ragazzi, coccetto è davvero buono, al limone! Andiamo! Eccoci siamo in viaggio, siamo quasi arrivati, manca veramente poco, ci vediamo all'arrivo Arrivati! Finalmente! Era ora! Che cos'è? E' l'androne questo? Che cos'è un androne? L'androne! Voleva dire droni! Ah, invece di droni è un androne! Non l'hai capito! Eh no, non l'ho capito! Effettivamente non è semplice! Stiamo oltre! Eccolo! Vai, andiamo! Andiamo a portare, ce la fai! D'aiuto, andiamo! Outro Cossegna fatta, vanda Vanda, non devi essere timida C'è, per tutti Vabbè Tranquillo, voi non fate niente di una macchina No, no, non ti preoccupare Ma questo voglio essere bello Finalmente si mangia la pasta? Io c'ho la pasta e succo Pasta ai pomodori E noi? Griscia 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 Pasta ai pomodori, un'altra bambina Ma dai Brindisi Griscia 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 Questa è del presidente Antonieta Che è Massimo? Massimo di Cassagia Vai Guardare gli occhi Guardare gli occhi Guardare gli occhi Guardare gli occhi Guarda, non si è abbangia io Bambangia, questa non toglie niente Allora, questa giornata è finita Ci siamo divertiti, abbiamo portato il cane Il cane, quale cane? Il cibo per gli animali terremotari Vero Alessandro? Sì E quindi A Rieti A Rieti Perché qui c'era un punto di raccolta Va bene? Quindi? Ciao ragazzi Il video vi è piaciuto Mettendo un bel mi piace E iscrivetevi al canale Ciao E mettendo un mi piace alla pagina Amici di Pirillo E c'è anche il canale YouTube Ciao Ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao